Il 21 aprile scorso è stato sottoscritto tra parti datoriali e sindacati un contratto regionale per l'edilizia, un contratto che vuole essere all'avanguardia a livello nazionale e quindi da esempio anche per le altre regioni e che tenta di riassumere in sé vari accordi che erano stati stipulati nel corso degli anni nelle varie province. Un contratto che può aiutare e come i dipendenti delle aziende edili? Il contratto può aiutare perché porterà uno stesso trattamento per le migliaia e migliaia di lavoratori che ci sono in Piemonte nel settore edile. Ci sono previste due tappe. La prima è quella intanto di applicare e per alcune voci della contrattazione portare già da subito livellare, se così può essere usato un termine comprensibile. e nel lungo periodo questo il poter portare un contratto che fa sintesi diciamo in futuro di otto contratti perché ci sono otto province nel Piemonte, da qui al 2020 con vari step, si porterà ad avere una contrattazione di secondo livello nel 2020 che sarà solo regionale, per cui tutti i lavoratori e tutte le imprese, tutte quelle voci che sono contrattate a livello territoriale verranno portate a sintesi. Questo vuol dire fare un'operazione che guarda al futuro e non guarda al passato. Il punto forte dell'edilizia che sono gli enti bilaterali, cioè quelli che erogano prestazioni, rimarranno sul territorio. Il Comitato Coordinamento e Confederazioni Artigiane del Piemonte, composta da Confartigianato, CNA e Casa Artigiani, ha sottoscritto insieme ai sindacati il primo contratto regionale per l'edilizia. Un contratto che in sostanza vuole semplificare la vita delle aziende. Infatti è così. A nome delle imprese artigiane, delle confederazioni, Confartigianato, CNA e Casa Artigiani, è un primo passo importante perché è il primo contratto collettivo regionale in Italia per l'edilizia, che vuole superare quelli che sono gli aspetti territoriali e mettere al centro dell'attenzione lo snellimento del rapporto tra imprese e lavoratore. Il primo esempio che può essere, può fare da faro per il settore e anche per gli altri territori. I dati delle aziende edili non sono, come per molti altri settori, positivi. Questo però potrebbe essere un primo tentativo che può modificare questa situazione un po' preoccupante. Il trend è difficile da invertire, però questa è una prima risposta concreta in quanto si cerca di ragionare in termini di settore e non più di sigle di appartenenza. È fondamentale perché ci si approccia all'impresa e di conseguenza al lavoratore in una nuova veste che è quella di settore e non più di bandiera. Una domanda, e questo in termini pratici, la controparte delle aziende a questo punto, per quanto riguarda la parte sindacale, sarà solo il livello regionale? Il livello regionale che poi verrà traslato ovviamente sul territorio, quindi quelli che sono i cosiddetti contratti provinciali. Grazie. 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 Grazie.